Uno spaventoso incendio è scoppiato nella serata di martedì 27 dicembre a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Tanta la paura per l'incendio dell'annesso di un rustico. Intorno alle 19.45 un terribile fumo si è levato in cielo da un box di Viano Garola. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco, che accorsi dal locale di staccamento da Treviso con diversi mezzi e operatori, hanno spento le fiamme dello stabile annesso, evitando il coinvolgimento della struttura vicina. Bruciata è andata completamente distrutta un'auto che si trovava all'interno del deposito. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nel pauroso rogo. Lunghe e laboriose le operazioni di completo spegnimento e bonifica, che sono terminate nella tarda serata. Le cause che hanno portato al divampare delle fiamme sono ora al vaglio della squadra intervenuta.